Ciao creatura, io sono Vecati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kulai ASMR. Quest'azienda mi ha contattata per provare delle loro bellissime unghie finte, quindi andiamo insieme a vedere che cosa vendono e a scegliere ben cinque unghie finte diverse, cinque confezioni di unghie finte. Allora, mi hanno dato anche un codice sconto, se volete adoperarlo ve lo lascio nell'info box del video. Andiamo a vedere in base alla lunghezza, perché possiamo scelterle e vederle in base al design, al colore, alla forma, alla lunghezza, opaca, oppure lucida, in base alle occasioni, festività, matrimonio, lavoro, pari. Allora, io andrei a sceglierle in base alla lunghezza, dato che ho la possibilità di sceglierne ben cinque diverse. Direi che sicuramente ne prenderò una lunga, una media e una curta. Le provo volentieri, perché ho di nuovo avuto, diciamo, il problema che le ho rotte di nuovo. E per fare i video, onestamente, mi vergogno di mostrare le mie unghie, diciamo, rotte o mangiocchiate. E quindi, ottima occasione per me, questa, di provare queste unghie finte. E anche, soprattutto per te, di conoscere questo nuovo sito, perché vedo che, comunque, sono anche in offerta. Alcune e i prezzi, comunque, sono buoni, più è anche lo sconto. Ho visto che, più o meno, anche in negozio, costano parecchio le unghie finte. E, quelle belle, queste hanno già all'interno, non la colla, ma un adesivo. Poi andremo a vedere, insomma, come si applicano. E, comunque, stavo guardando queste, le vedo molto carine. Mind to be. Ora è qualcosa che, normalmente, non sceglierei per cambiare un po'. E, quelle, mi piacciono particolarmente, molto aesthetic. Sì, penso che prenderò quelle, però guardiamo insieme qualcos'altro, che cos'altro ci offrono. Questo, queste sono carine, ma un po' troppo, non lo so, carine, carine, carine. Queste, in particolare. Sì, ti ricordi, direi che quelle mi hanno, hanno attirato subito la mia attenzione. Vediamo un po', sono anche in offerta. Ah, sì, non ho, no, 6,99 dollari. E, sono queste qui. Mi sembrano molto carine e fini, un po' si estetiche, non lo so, mi ispirano di lunghezza media. Allora. Best seller, queste Pillow Talk. Interessante. Interessante. Anche il nome mi piace, perché è una categoria di video ASMR, no? I Pillow Talk. Anche queste, ma sono molto simili alle Pillow Talk. Sono nere, lucide. Pixie Pink. Belle, anche queste Blum Addict. Molto bello questo viola, scuro, così, mi piace. Sono anche opache. Adoro. Molto carine. Classiche, olografiche, sono, se no, scelgo, cado sempre sulle solite scelte. Vorrei qualcosa di diverso, onestamente. Smalti opachi, quindi penso che le sceglierò opache per cambiare un po'. Detto che comunque si sta avvicinando un po' anche la stagione fredda, quindi migliorò un po' di colori, un po' di colori un po' più autunnali e scuola si sta caricando. Allora. Allora. Gaga. I nomi, adoro. Adoro i nomi. Donuts Girl. Wow, carine queste. Deep in Soul. Bel colore. Baby Blue. Baby Blue. I'm Bossy. Egyptian Gold. Wow, bellissime. Ecco qua. Non so cosa scegliere, onestamente. Anche se una mezza idea già ce l'ho. Sicuro è qualcosa di comunque non eccessivo. perché, ok, per farci video però ci vorrei, vorrei provare anche ad uscirci e quindi voglio una cosa un po' più semplice e tricolette sopra ed elegante. Quindi, 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 wow, queste Neon Electric Blue si illuminano al buio forse con la luce UV. Vediamo un po'. No, ho appena detto che le prendo sobrie e poi mi vado a prendere queste. No, 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 no. Carine queste. Allora... Penso che prenderò Pillow Talk. Non lo so. Non so proprio definire questo colore. Se tu lo sai, fammelo sapere nei commenti. Grazie mille, creatura. E... Sì, penso che prenderò proprio queste. Sono anche best seller, quindi... Ci piace. Mi sembrano molto... Eleganti. Cosa ne pensi? Molto, 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 molto. Queste. Mi piacciono molto queste. Plum. 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 Addict. Che belle. Viola opache. Mi piacciono molto. Sì. Sì, non sono magari proprio così suabili ed eleganti. Però, secondo me, nei video ci stanno. quindici, in cui ne ho preso una corte, due medie e ne andremo a prendere due lunghe. Per fare dei video come si deve, proprio esagerati, perché le vedo molto, molto lunghe. Allora... Wow, queste nere mi piacciono molto. Nere opache. Sono molto cool. E mi piacciono molto. So che non c'entra niente, però... Niente, niente, niente. Proprio totalmente l'opposto. Penso proprio che prenderò queste due, perché mi hanno affascinato. Però... Andiamo a vedere che altro ci offre il sito. Wow. No, pasto verde, pasto. Mi piace il contrasto di quelle due. Mi hanno attirato subito. Ma ancora non ci ho detto qual è il secondo che ho scelto. Ma quando te lo dirò, dirai... Ecco a te. Ma sei impazzita? Non me l'aspettavo questo da te. E già. E già, già, già. E adesso ti mostro che cosa andrò a scegliere. Poi fammi sapere nei commenti se te lo aspettavi. Allora, queste... Self Lover. Troppo belle. Nere opache. Cioè, adoro. Ah, io adoro. Fly in the clouds. Sono super aesthetic. Fly in the clouds. Cioè, oh mio Dio, mi piacciono un sacco. Praticamente sono color pastello. Rosa, giallo e verde. Forse anche lilla. Non lo so. Non si capisce molto. E... E hanno queste nuvole. Tutte... Quanto sono aesthetic, già parliamone. Sì. Voglio esagerare. Prenderò queste. Sì. Ormai ha deciso. Non mi fermo più nessuno. Andiamo a indossarle. E... Vedere come sono. Insieme. queste. Queste sono le unghie che mi sono arrivate. Non mi piacciono molto. Penso che vorrei provare per prima. Decisa se provarmi quelle più corte. Oppure queste qui, le più lunghe nere. E penso che proverò queste nere opache. Perché poi voglio farci un video. E quindi andiamo ad aprirle insieme. Vediamo che cosa contiene la confezione. Perché appunto queste unghie non vanno indossate con la colla. Ma pensi con gli adesivi. E sono contenta. che ora siano 48. Così si possono indossare. Più volte. Modalità d'uso. Come usare auto use. Opacizzare l'unghia immagino. Però in modo delicato. Non è incisivo. Come quando si va a fare la ricostruzione. Poi bisogna usare il pad. Il pezzettino di stoffa che c'è all'interno. Per pulire l'unghia diciamo. Poi selezionare l'unghia che calza meglio. L'unghia finta che calza meglio con il nostro dito diciamo. E applicare. La. Guardate le mie unghie. Mi unghie adesso vanno schifo. Applicare la. L'adesivo della giusta dimensione. Delle nostre unghie. Quindi mi serviranno. L'adesivo mini. E poi. Indossare. L'unghia. Insomma. L'unghia finta. Come rimuovere. Pill off. Quindi. Togliere. In modo delicato. L'unghia. Finta. Dal proprio dito. Con il bastoncino. Che troviamo all'interno. Per la manicure. Dice di non forzare. E. E. Se non. Viene via. Mettere le mani sotto. L'acqua calda. Trovo che questo sia un ottimo modo. Per. Avere delle unghie. Non so. Se. Vi servono. Solo per quell'occasione lì. E poi. Durante la giornata. Gli altri giorni. Necessitate. Di unghie corte. Questa è. Il modo migliore. Secondo me. Per. Avere. Le mani. Le unghie. In ordine. In modo economico. E pratico. Ecco. Adesso vado ad aprirla. Vediamo. Dentro. Qui ci sono le unghie. Qui c'è. Una. Una cosa che non c'entra nulla. Un pezzo. Di. Carta. Olografica. E qui all'interno. C'è. Come dice la descrizione. Il bastoncino. La limetta. Che è rosa. Il blu. Il nostro. Pad. Di. Di alcol. 75%. Alcol. Etilico. Non si può bere. E qua ci sono. Si può bere. Chi noterà questa frase. E qua ci sono. I foglietti. Con. I sticker. Per le unghie. Adesivi. Avevo comprato. Tempo fa. Delle unghie. Finte. E. Che però. L'adesivo. Lo avevano già. Attaccato. Infatti. Una volta messe. Poi. Rimetterle. Non era. Proprio. Molto. Fattibile. Invece. Così. Possiamo. Riutilizzarle. Poi. Anche comprando. Separatamente. I vari. Adesivi. Per le unghie. Che ho visto ci sono. Sussita. Ups. Ok. Adesso. Siccome. Sono messa male. Sono messa male. Adesso. Con il microfono. Le luci. Vado a mettermele. Magari. Lascio fuori. Due dita. Andando per farvi dire. Come. Come. Si fa. Ok. Anche se. La spiegazione. Mi sembrava abbastanza. Chiara. Ho. Applicato. De queste. Quattro. Unghie. Devo dire. Che. L'unica. Cosa. Che. Trovo. Complicata. Per quanto mi riguarda. E' il fatto di. Togliere. La parte. Sopra. Del. Biadesivo. Che poi. Non è. Un. Un semplice adesivo. Biadesivo. C'è una specie di gel. Colloso. E. L'ho applicata. Anche sulle altre unghie. E ho provato queste qui. Anche per suono. Cioè. Sono. Stupende. Mi tranno le mani. Come al solito. Allora. Ti mostro. E' un po'. Diciamo. Complicato. Perché. In teoria. Si dovrebbe. Sollevare. Questo. Dovrebbe. Venir via. Più facilmente. Però. Vedi. Venir via tutto. Ma potrebbe essere. Che. Io. Le unghie. Troppo. Corre. Quindi. Magari. Aderisci. E' peggio. Non lo so. Però. Alla fine. Comunque. Vieni via. Si. Tira via. Questa parte qui. Specie di. Di gel. Corsetta. Ceritino. Se andiamo. Posizionare. Occhio. Sopra. Premiamo. Un pochino. Io. Pensavo che. Non attaccasse. Molto. Invece. E' molto appiccicoso. Meglio. vedete tutte oggi sono belle, nere, opache adoro, bellissime super super top ecco fatto così e ho sentito che non partono unghie indossate sono un po' storte ma perché sono le mie dita che sono storte ma dettagli no vabbè ma quanto sono belle no guarda adoro tu cosa ne pensi? super approvate guarda qua mi piace questo bicchiere nuovo che ho? lavati le mani e ti le tue bicchiere perché ci sono i germi sono ovunque mi piaceva troppo ridere la scritta io sono soddisfatta queste unghie finte le approvo totalmente e ho ancora quelle viola che sono medie poi le altre medie queste qui pillow talk queste sono quelle lunghe come queste qua estetiche bellissime anche queste non mi trovo di mettermi però sono sono partita subito col botto con quelle più lunghe ma devo abituarmi e queste quelle con cui dovevo partire per primo cioè quelle più corte molto belle carine molto cute ti ricordo che ti lascio il codice sconto nell'info box e ti metto anche i link delle unghie che se ti piacciono queste qui che ho io spero che questo video ti sia stato utile io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura